per una reazione nucleare. Cenacolo, umanità e movimento. Braccialetto ha portato in dono ad una partecipante della riunione. L'oggetto appena uscito dalla bocca dello strumento risulta completamente asciutto mentre dovrebbe essere bagnato di saliva. La guida fisica Enzo ha spiegato che nella bocca dello strumento, non nella gola, la materializzazione avviene per una reazione nucleare che richiede molta energia e asciuga completamente la saliva.